Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato danni in diverse zone della provincia di Pesaro e Urbino. Frane, smottamenti, pericolose buche che danneggiano pneumatici e cerchioni delle ruote vengono segnalati in diverse parti del territorio. La situazione più critica nella strada della Murgia a Serrungarina, dove una frana ha completamente bloccato la viabilità isolando tre abitazioni, di cui due disabitate. In una, invece, risiede una signora di 86 anni. L'amministrazione comunale è riuscita a contattare il figlio Ilario, che a sua volta a piedi è andato a soccorrerla. Ma l'anziana è ancora lì, senza nemmeno il telefono, perché il cedimento del terreno ha tranciato i cavi della Telecom. Intanto il sindaco Marta Falcioni, con l'ausilio dei tecnici del comune, ha incaricato una ditta esterna per la rimozione della frana. Sempre per la stessa causa. Ieri la strada provinciale 26, che collega Monbaroccio e la vallata del Metauro, era stata chiusa al traffico. Un provvedimento preso questa mattina anche per il tratto che collega Monbaroccio a Monte Ciccardo e quindi alla vallata del Foglia. Grazie ad un rapido intervento della provincia, del corpo forestale dello Stato e degli uffici tecnici, in giornata è stato possibile riaprirne una completamente, mentre la seconda solo in una corsia di marcia. Questi danni, ha detto il sindaco Angelo Vicchi, sono il conto che manda la natura quando per troppi anni il territorio è stato lasciato a se stesso. Le chiamate sono continue, oggi una strada qui, poi una strada su alla, praticamente a Fonte Corniale, quindi il Monte della Matera, case che crollano, alberi che cadono, frane un po' di qua e un po' di là. La situazione è questa, cerchiamo di gestirla al meglio, con difficoltà sicuramente, perché chiaramente le possibilità dei comuni sono all'umicino, lo sono sempre state e continuano ad esserlo giorno dopo giorno. È chiaro che cerchiamo di fare sistema per salvare i salvabili. E per le gravi difficoltà economiche degli enti locali citate dal primo cittadino, il presidente della Proloco di Monbaroccio, Bartocetti, ha voluto lanciare un appello al governo centrale. E ora che ce la facciamo finita di continuare a tagliare i fondi agli enti locali, ai comuni e alle province, che sono l'unico ente che sta tutelando il territorio, ogni giorno il governo taglia fondi a più non posso, i comuni e le province rimangono a mani concerte, perché proprio questa mattina, gli uomini della protezione civile della provincia e dell'ufficio viabilità che stanno intervenendo per poter non chiudere questa strada, che in questo momento è chiusa, ma senza soldi, senza risorse. E se il governo non si rende conto che ora di far basta di tagliare le risorse agli enti locali e dare le risorse agli enti locali e toglierne un po', forse a Roma, allora forse riusciremo veramente a tutelare il nostro patrimonio e il nostro territorio. E a proposito di tutela del territorio, il Corpo Forestale dello Stato si sta impegnando a far rispettare le norme del regolamento di polizia rurale per i coltivatori diretti. Queste prescrizioni, che riguardano ad esempio i fossi di guardia e la tenuta dei versanti, comportano delle sanzioni amministrative immediate per chi non le osserva, ma anche l'eventuale revoca del finanziamento dei benefici che provengono dall'Unione Europea per la buona tenuta del territorio. Il maltempo incontra una fragilità del territorio ormai troppo diffusa e si è endemicizzata con l'abbandono da parte del governo del territorio e delle buone pratiche di polizia rurale, di cura proprio del territorio, dei versanti, delle aree boscate. È fondamentale recuperare questo modo di approcciarsi al territorio perché altrimenti ne pagheremo le conseguenze e il conto già comincia ad arrivare guardando le numerose situazioni di grave dissesto idrogeologico che colpiscono in particolare la nostra provincia.